Che l'Italia sia diventato un paese da imitare nel contrasto alla diffusione del coronavirus era ormai cosa nota da giorni, ma c'è chi invita a prendere esempio non solo per le misure restrittive di contenimento come la chiusura delle attività commerciali o la necessità di stare a casa, ma anche per i modi in cui si invitano i cittadini a rispettare i divieti. Lo show di De Luca e di alcuni sindaci, protagonisti di video eloquenti e modi spicci, è finito addirittura oltreoceano, in particolare sulla pagina Instagram di Naomi Campbell, star indiscussa della moda. Ascolta America Ascolta, questo il messaggio che accompagna una sorta di medley con i video del governatore della Campania, seguito da quelli di alcuni sindaci italiani. E per ogni frase ad effetto, come quella ormai celebre del lanciafiamme alle feste di laurea, c'è anche una traduzione sottotitolata in inglese, in modo tale che tutti possano capire. Il video, realizzato da una giovane italiana, è stato rilanciato dal profilo personale della Benere Nera ed ha ottenuto in poche ore decine di migliaia di commenti e reazioni. Lo show di De Luca, insomma, è ormai diventato internazionale. Discusse e commentate in tutta Italia, le performance verbali del governatore sono ora finite anche all'attenzione, se non dell'opinione pubblica a stelle strisce, sicuramente di decine di migliaia di persone in tutto il mondo.